Salve Ministro, noi volevamo dire, secondo lei, che cosa può fare lo Stato per cambiare le cose in Calabria e in che modo un evento culturale come Trove Pessima può incidere sui dismeni delle coscienze e sulla lotta all'eroglio? Io credo che per cambiare le cose in Calabria dobbiamo innanzitutto in prima persona essere noi gli autori del cambiamento del nostro destino, facendo ogni momento della nostra vita la scelta giusta secondo scienza e coscienza e una delle scelte giuste è quella che voi state facendo occupandovi di questo bellissimo festival qui alla Venezia. Lo Stato naturalmente deve salvaguardare tutte quelle attività positive per lo sviluppo, soprattutto per lo sviluppo economico e lavorare moltissimo allo Stato, diciamo che il Governo deve lavorare moltissimo per favorire l'occupazione perché io penso che la maggioranza, quasi tutti i problemi, si possano risolvere solo e soltanto se secondo la Costituzione italiana ognuno di noi possa accedere ad un lavoro. E un'altra domanda se può risponderci. Quale potrebbe essere secondo lei il miglior candidato alle prossime regioni? Potrebbe essere una persona che abbia molto lavorato sul territorio, potrebbe provenire anche dalle associazioni, potrebbe provenire dalla vita amministrativa e magari l'avere fatto il sindaco. Grazie mille. Un selfie. Ah, un selfie, sì, ormai.